Io appunto mi chiamo Anna Ercaldini e sono approdata al gruppo di lettura di Cologno più o meno alla sua nascita, quindi direi oltre dieci anni fa, probabilmente dodici. Però il tema che Luca mi ha assegnato è forme di contagio. Allora io parto con raccontarvi un'esperienza molto personale e che devo dire mi ha assegnata. Negli anni Ottanta, alla mia prima esperienza di lavoro, io lavoravo in una multinazionale molto grande. Mi facevano fare dei mucchi di fotocopie come ultima arrivata e un giorno, mentre stavo facendo questo pacco di fotocopie interminabile, nel fotocopiatore vicino al mio c'era una signora. Una signora che io non conoscevo neanche tanto bene, che improvvisamente ha iniziato a raccontarmi che stava leggendo un bellissimo libro. Un libro di un tale Elias Canetti, La lingua salvata. Questo racconto è stato così intenso e così appassionato che innanzitutto mi ha spinto, appena andata a casa, andare a prendermi il libro in biblioteca. Ma poi si è fissata questa esperienza nella mia mente, tant'è che la ricordo ancora adesso. Perché? Perché è stata la mia prima esperienza di vero contagio. Cioè fino ad allora le mie letture erano state solitarie. Io leggevo tantissimo, andavo fin da bambina alla biblioteca di Porta Venezia a Milano, che non so chi si ricordi, fino a tutti gli anni Ottanta era nel casello d'aziaio di Porta Venezia e lì percorrevo questi scaffali avanti e indietro, a piene mani. Però fino a quel momento non avevo ancora fatto questa esperienza del contagio da parte di qualcuno e in modo così totalmente anche immotivato. Devo dire che da allora io ho iniziato a contagiare e a farmi contagiare nelle letture. Prima in modo timido, poi con sempre maggiore libertà. A distanza di tanti anni io sono sempre molto contenta quando persone che incontro mi dicono che si ricordano di me per un libro che ho consigliato. E da mia volta io sono grata a persone che ormai non vedo più perché mi hanno fatto conoscere degli autori o dei libri. Una cosa che faccio quando sono in vena così un po' di bilanci passo in rassegna la mia libreria a casa e leggo i titoli dei dorsi dei libri e intanto penso alle persone che sono legate a quei libri che in qualche modo o me li hanno fatti conoscere oppure ne hanno fatto oggetto di condivisione con me, di discussione con me. Il contagio secondo me nasce innanzitutto dal bisogno di comunicare l'esperienza di lettura di un libro o di un autore. A volte anche solo di un brano, di una poesia perché ciò che si è letto ci ha accompagnati, ci ha toccato profondamente, ci ha suscitato delle riflessioni, a volte ci ha anche un po' cambiati. Per farsi contagiare bisogna avere un pizzico di curiosità e il gusto della scoperta. Quando sono approdata al neocostituito gruppo di lettura di Cologno mi sono sentita finalmente a casa. In un gruppo di lettura la pratica del contagio è connaturata perché inevitabilmente dobbiamo misurarci con libri che da soli non avremmo mai letto. A volte accadono innamoramenti, si conoscono degli autori, si viene contagiati positivamente. Io ricordo con molto piacere per esempio un incontro che abbiamo fatto parecchi anni fa che aveva come tema i cinque libri della vita che poi naturalmente possono anche cambiare a distanza di anni quindi l'incontro si potrebbe rifare adesso. Io da quell'elenco e da quella condivisione ancora adesso trago spunti di lettura perché appunto quando si racconta di un autore che è stato importante, di un libro che è stato importante si racconta anche un po' di noi. A volte invece certi libri che leggiamo perché vengono scelti dal gruppo di lettura non ci piacciono, non sono nelle nostre corde li abbandoniamo a volte anche prima di finirli. Anche questo comunque è un piccolo contagio ci permette di socchiudere una porta che altrimenti sarebbe rimasta completamente chiusa. Oltre a discutere di libri che scegliamo insieme perché al gruppo di lettura di Cologno scegliamo dei libri, devo dire, in linea di massima senza un tema specifico che viene sviluppato cioè ci sono un po' dei filoni che si seguono sulla base dei suggerimenti sia dei bibliotecari che dei partecipanti. Però è ormai diventata una prassi consolidata anche condividere le letture che facciamo singolarmente al di fuori del gruppo. Quindi ci sono spesso questi consigli di lettura poi la posta elettronica, devo dire, che da questo punto di vista ha molto semplificato i contatti quindi ci iscriviamo anche come partecipanti al gruppo al di fuori del gruppo. Cioè alcuni di noi hanno una corrispondenza attraverso la quale condividiamo per esempio una poesia, un brano, una riflessione. Io che svolgo un lavoro che non c'entra assolutamente niente col mondo dei libri, sento molto il bisogno per esempio durante la giornata di poter come dire, passare a un livello un po' più alto delle cose di cui mi occupo e invece di prendere un caffè spesso mi concedo la cosiddetta pausa poesia ovvero con l'aiuto di internet mi cerco una poesia. Può essere un poeta che già conosco può essere così il passare velocemente in alcuni blog di poesia può essere invece recepire una mail che mi ha mandato un amico del gruppo di lettura con una suggestione e devo dire che questo mi aiuta molto e mi fa molto meglio di alcuni caffè tossici che prendiamo in ufficio tossici magari da più punti di vista quindi questo è un esempio di ulteriore contagio c'è anche un tipo di contagio che nel nostro gruppo di lettura per il momento non abbiamo mai affrontato e che è stato suggerito da Antonio uno dei partecipanti che quindi potrebbe anche darsi che prenderemo in considerazione ed è il contagio legato all'approfondimento di un autore ovvero si legge un libro di un autore che si trova particolarmente interessante e si decide di proseguire con altri testi dello stesso autore per conoscerlo e per andare sempre più in profondità ci chiedevamo se ci fossero altri gruppi che già fanno o hanno fatto questa esperienza perché pensiamo che possa essere un'esperienza molto interessante anche molto ricca e alla fine c'è un'altra forma di contagio che è quella dell'esperienza del gruppo di lettura vero e proprio dal mio incontro casuale con una persona che faceva parte della commissione biblioteca di Cernusco sul Naviglio dove io abito alcuni anni fa per esempio è nato il gruppo di lettura di Cernusco il gruppo di lettura è nato al momento appoggiandosi alla biblioteca locale adesso ha proseguito negli anni molti dei partecipanti non sono più gli stessi adesso si appoggia alla banca del tempo però è un esempio di contagio anche qui un contagio devo dire abbastanza casuale io quello che ho visto nella mia esperienza è che se io racconto che faccio parte di un gruppo di lettura in linea di massima sento molto interesse da parte delle persone per cui io è una cosa che racconto spesso racconto al lavoro racconto quando vado in vacanza racconto quando incontro persone in altri ambiti se appena appena vedo che c'è uno spunto si parla di un libro e io la butto lì a volte mi è capitato anche in metropolitana perché avevo una borsa della biblioteca di Cologno e con il logo del gruppo di lettura stavo leggendo un libro e una persona ero in piedi e una persona dopo dieci minuti mi ha chiesto posso farle una domanda e io prego ma che cos'è il gruppo di lettura e allora ovviamente non mi è sembrato vero di poter spiegare l'esperienza e in linea di massima io appunto vedo molto interesse le parecchie persone vorrebbero iniziare un gruppo ma non sanno come farlo hanno timore vogliono dei consigli quindi per esempio penso che potrebbe essere un'idea quella di creare un elenco di facilitatori di persone che sono disposte ad aiutare la nascita di un gruppo per poi lasciarlo libero per esempio appunto a Cernusco io devo dire nonostante io adesso non partecipi più per una serie di motivi comunque sento un legame con quel gruppo e sono contenta che prosegua anche con altre persone e magari con un taglio che io personalmente non sento vicino concludo poi con un messaggio di Vincenzo che è un partecipante al nostro gruppo e che trovo sintetizzi tante cose che si sono anche dette oggi leggo dunque sono e se sono leggo solo o in gruppo se mi viene chiesto non so bene cosa rispondere perché è un atteggiamento naturale poco costruito una vocazione cerco di spiegarmi il mio approdo al GDL di Cologno è un approdo a un porto dopo lunghe letture solitarie una sorta di viaggio velico dove le parole le pagine sono il vento forte che spinge le vele ma talvolta è anche imbarcarsi su un transatlantico verso un'unica meta che contiene tanti libri e tante biblioteche un perdersi un viaggio nel viaggio ecco la metafora che sento più vicina per il GDL è proprio questa il viaggio di parole che convergono inevitabilmente nel porto del gruppo di lettura popolato di tante figure di marinai capitani nostromi cartografi insomma è un fare i conti un aggiustare anche probabili rotture indicare percorsi sconosciuti per ripartire con un altro viaggio talvolta più sicuri di prima altre volte modificati e contagiati grazie 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 grazie